Salve a tutti, io sono TheLongamer e benvenuti su Call of Duty Modern Warfare Remastered. Torniamo indietro nel tempo fino all'era d'oro di molte blasonate serie e aiutiamo il Capitano Price e la squadra speciale britannica a capire come fermare un dittatore medio-orientale che pare pronto a dichiarare guerra all'occidente usando ogni arma a sua disposizione. Preparatevi per una epica avventura. Buona visione! No, vabbè! Questi suoni mi rievicano i flashback del passato, gente, voi non ci avete idea. Sto gioco mi era mancato un sacco, non spoilerate nei commenti. Prima le buone notizie. Il mondo scoppia di salute. C'è una guerra civile in Russia. Il governo lealista lotta contro i ribelli ultranazionalisti e ci sono 15.000 testate nucleari in bando. Ben sordo, insomma. Khaled Al-Azhar, al momento il secondo uomo più potente del Medio Oriente. Si dice che abbia la stoppa per essere il capo. L'intelligence lo sta tenendo d'occhio. Era cattiva notizia. Oggi abbiamo con noi un nuovo uomo, fresco dal reclutamento. Assolutamente, si chiama So. Che in inglese vuol dire sapone. Il che è la cosa strana perché mi lavo poco e mi pussa l'ascella. Ma vabbè, dettagli. Buongiorno. C'era di vederti, amico. Prendi un fucile dal tavolo. Sì, signore! Non la deluderò, giuro. Perfetto. Sai bene cosa fare. Vai alla postazione 1 e punta il fucile sul bersaglio. Va bene, ok. Ora spara i bersagli utilizzando solo il mirino a video. Un po' come fa il Dallon Gamer di solito, perché è un nabo di proporzioni bibliche. Ora punta il fucile sul bersaglio, sopra. Un attimo, che ricarico. Maronne, quanto mi piace. Cos'è il G36C questa coppia di arma? Ora spara puntando ciascun bersaglio. Wow, incredibile. Quando miro sono più preciso, non me lo aspettavo. Ma scerano i bersagli con dei pannelli di compensato. I proiettili in dotazione sono in grado di perforare legno, gesso e lastre metalliche. Devi colpire i bersagli sparandovi attraverso. Maronne, che cocchio di proiettili ci danno questi tizi? Ora farò comparire i bersagli uno alla volta. Colpisceli tutti più rapidamente che puoi. Ok, cerchiamo di far boiate. L'honne, un colpo morto. Vabbè, mi è un po' sbrisciato il dito. Ok, buono. Buono. Olè, perfetto. Best fuciliere ever. E... Oh, e basta. E quanti ancora? Allora, a posto? Ora prendi un'arma secondaria. Bene, ora passa al fucile. Ok. Estrai l'arma secondaria. Ah, ma si diverte con poco lei, eh? Per caricare richiede sempre più tempo che passare alla pistola. Ah, ok. Da questa parte, vai prima a usare il coltello che a passare alla pistola. Colpisci il cocomero. Devo sconfiggere questa anguria. Maledetta anguria terrorista. Molto bene. Te la capi bene con la frutta. Eh, sono bravo su Fruit Ninja. Il capitano Price vuole vederti. Il capitano Price. Da quanto tempo, gente? Ero curioso di provare da tanto questa remastered. Ah, ai miei occhi! Oh mio Dio! Cioè, ragazzi, ricordiamoci che sto gioco quanto c'ha? 14? 15 anni? Non lo so più nemmeno io. Devo dire che hanno già fatto un ottimo lavoro. Le luci, le texture. Ne ho viste di remastered negli ultimi anni, ma... Porco cane! A mio avviso questa è una delle migliori. E sì, prima o poi ci proveremo anche quel reboot che hanno fatto nel 2019. Per adesso ho trovato questo in sconto. E volevo effettivamente rifarmi l'antica trilogia dei Modern Warfare. Io feci il primo a suo tempo nel 2007, quando Cocchi è stato. Non mi ricordo quasi nulla della trama, ma gli altri due non li ho giocati. Quindi, per favore, ragazzi, niente spoiler nei commenti. Buongiornissimo! Sono l'ultimo arrivato. Capitano Price! Mi firma una tetta? Non mi guardi così avanti? Bella domanda, signore! Sop, ora tocca a te sostenere la prova a CQB. Tutti gli altri osservino. In questo test, completerai il percorso mercantile da solo e in 60 secondi. Al momento il record è di Gazz. 19 secondi. Buona fortuna. Eh, che Gazz! Ok, ok, cerchiamo di non far brutte figure con il capo. È lui che ti paga lo stipendio, porco cane. Non posso farmi licenziare il primo giorno? E ole! Prendi quell'MP5 e quattro granate. Al mio via, calati sul ponte con la fune e corri alla posizione 1. Dopo, scendi le scale fino alla posizione 2. Infine, passa per le posizioni 3 e 4, eseguendo i miei ordini a ogni tappa. Ok, il mio corpo è pronto! Vai! Forza, Sop! Colpisci i bersagli! 1, 2, e 3. No, questo l'ho mancato. Coro, corro, 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 corro. Potete ricarico e poi coro, corro, corro, corro. Eh, un attimo, sto ricaricando, signore. Granata attraverso la porta. Magari non guardiamola. Ok. Colpisci i bersagli. Posizione 5, via. Colpisci i bersagli. Ok, perfetto. Granata attraverso la porta. Granata attraverso la porta. 1, 2. Dove andare? Beh, dove è l'ultima posizione? Ditemelo che è da questo lato. Coro! Niente male, Sop. Ma ho visto di meglio. Signori, l'operazione mercantile sta per iniziare. Preparatevi. Si parte alle 0, 2, 0, 0. Potete andare. Sì, ma almeno un po' di debriefing prima di mandarmi in un'operazione del genere. E ci spostiamo invece. Squadra Bravo. Informazioni per l'operazione vengono da nostro uomo. L'obiettivo è a bordo di un mercantile estore di medie dimensioni. Numero 52775. Ci sono pochi uomini. E una squadra di sorveglianza. Regole di ingaggio, signore. E il compagno sacanile. Ah, ok. Possiamo ammazzare tutti come ci pare. Piace. Quindi mi mandano subito così in azione. Il primo giorno. We hammer 2-4. Contatto visivo col bersaglio. Arrivo stimato in 60 secondi. Ricevuto 2-4. Signore, il fumo nuoce gravemente alla salute. Ho capito che probabilmente l'ammazzarà prima un proiettile del fumo. Ok. Onne quanto è grande il suo mercantile. Scusate, ma non potevamo aspettare che passasse la tempesta. No, eh. Noi fotte sega. Maroni, quini, signore. Avanti. Ok. Non ho mai visto il capitano senza il cappellino. Non c'era sempre quel cocchio di cappellino orribile? Aspetta, aspetta. Un attimo. Carpetta, elimina tutto te. Tutto molto militaresco, in effetti. Chi è che... Signore! Non beva che poi si fa male se lo sbrissi e sbatta la testa. Ah, santo cielo. L'alcolismo in Russia è un brutto problema? Qua c'è gente che dorme e che faccio gli sparo. E tanti saluti. Ah. Ma no, ma poveri. Un po' mi sale il senso di colpa. Aiuto. Levati, barbone. Se mi faccio scoprire ti picchio male. Eh, ci saranno tappe sicuramente davanti a noi. Eh, distrattamento sociale. Bravo. Il capitano l'ha capito, santo cielo. Abbiamo l'elicottero che ci offre copertura per nostra fortuna. Wow, come l'ho detto. Niente copertura. Buoni. Aspetta, fettano. Vedo che passano tra l'esso del metallo questi colpi di proiettili. Oh no, perfetto. Ingancio chi? Wow. All'anima della copertura. Che spettacolo. Scusate, ma come fa l'elicottero ad aver finito la benza? Ah, facciamo finta di nulla, che è meglio. Controllate gli angoli. Eh, vabbè, non esagerate. Avanti, vediamo anche di divertirci. Che cocchio. Destro, ok. Corridoio libero. Anche qua è tutto libero, santo cielo. Tua mamma è libera? Scusate, libere. Movimenti a destra. Io non vedo nessuno per ora. Probabilmente. Eh, eh, come ho detto. C'è un po' di gente là davanti. Boni. Sade, boni. E non rompete i maroni, signore. Faccio attenzione che si scivola. Aspetta, 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 aspetta. Un attimo che ricarico. E sono subito da lei. Sì, lo so. Avrei dovuto prendere la pistola. Ma vabbè. Uh, la K-47. Aspetta, mola la pistola. Prendimi la K. E che cocchio. Tanto è abbastanza ovvio che sappiano della nostra presenza. È inutile procedere con armi silenziate. Oi. Attendo istruzioni. Cosa ci stanno sparando? Da sotto, da sotto. Aspetta. Lancia un paio di bombe a mano che non sarebbe male. Magari qualcuno pigliamo. Maledetti, roppi schiato. Wow. Sarella sicura. Sì. Scusi. Avanza. Ho visto cose strane per una frazione di secondo. Facciamo finta di nulla che è meglio. Ma questo lo posso prendere? Ah. Ci sono... Ma perché nessuno me le dice queste cose? Dove alzare. Wow. Nervi saldi. Eh, sono tranquillissimo, signore. Ma chi è che sta sparando? Da dove? Occhio da tutte le parti. Aspetta. Ma non c'è nessuno, no? Tutto tranquillo. E... Olè! Ma non si sfondano così le porte. Dai, ma non ci credo neanche se lo vedo. Passi avanti lei, signore. Io dovevo essere sempre l'ultimo. Ah. Così mi sparano a me su per il culo, santo cielo, se non ce ne accorgiamo. C'è scale, peraltro. C'è una pendenza di proporzioni bibliche. Occhio, occhio. Marone, sto MP5 è di un'imprecisione di proporzioni bibliche. Aspetta. E ti prendi, venimi il cacchio di AK. E con questo gli togli la voglia di vivere. Peraltro il beccheggio della nave mi sta facendo venire molti more. A posto sto molto meglio. Ah, cerchio di sbrissiare tantissimo. Ehi là! Buongiornissimo. Dove stanno tutti? Marone. Mi vieno a vomitare. Non spariamo ai barili, magari? Che c'è roba esplosiva dentro. Signore, buongiorno. Che piacere farci conoscenza. Aspettate. Aia. E un attimo, ci stanno già sparando? Aspetta, un attimo che ricarico. E sono subito da lei, signora. Asmettete di passarmi. Dai, che sono davanti al tuo culo. Non posso levarmi. Sono bloccato in parte al tuo culo, Samson. Possiamo avanzare cortesemente? Signore, la vedo un po' ebriaco. Posso passare anch'io? E dai, gente. Ok, lancio un paio di bombe a mano. Che cosa buona è che sta giudicando. Signore, faccia attenzione che c'è la bomba a mano. Potrebbe essere pericoloso. Un brutto modo di andarsene. Ok, avanza, 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 avanza. Aia, mi hanno sparato su una natica. Addio, tizio. Ottimo. C'è qualcuno qua dietro? C'è qualcuno lì dietro? Ah! Ho sparato un signore a cui non stavo mirando. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, porca trota. Ok. Ehi, lala. Avete più mirade in voi in questo Call of Duty che in tutti gli altri? È una roba incredibile. Aspetta. Eh no, eh no, eh no. Avanti, restate a giocare con noi. Chi è quello? Chi è quello? Dove vai? Esci volta giù per le scale, è malissimo. Aspetta, vedo, aspetta. È certo. È meglio che diate uno sguardo personalmente. Ah, cosa? Buongiorno. Quello non è un bel segno. Baseplate. Qui, bravo sei. Carico trovato. Siamo pronti a prepararlo per il trasporto. Agite subito, bravo sei. Due bersagli e un rapido avvicinamento. Prendete quello che potete e andatevene. Sono velocissimi. Forse dei mig. Andiamoci. So. Prendi il manifesto nel container. Sveto. Ma è radioattivo. Vorrei avere figli un giorno. Avanti. Ma che cocchio. Probabilmente è plutonio o qualcos'altro. Urani impoverito. Lo sapete, vero? Wow, 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 wow. Tutti vivi? Ma va? Da cosa l'hai capito? Ma non siamo a Gardaland, vero? Non è che poi è tutto uno scherzo. Aiuto. Aiuto. Ci arrivo, ci arrivo. Guarda quant'acqua. Aiuto. Che casino. Che casino. Dov'è l'elicottero? Aiuto, aiuto, aiuto. Un aiutino veloce. Grazie colleghi, eh. Perché hanno affondato la nave con tutto il carico radioattivo? È stupido. Hanno perso materiale per fare una bomba fino a prova contraria. Che inizio col botto, nel vero senso della parola, gente. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Oggi col 20% di palle cubiche in più. Ok, abbandoniamo lo stretto di Bering e ci spostiamo invece in... Siamo a Medio Oriente? Dove cacchia stiamo andando a finire? Non sono molto bravo in geografia? Vi prego, non mi rimandate a settembre. Localizzazione in corso del presidente Al Fulani. Ok, perché stanno cercando un presidente del Medio Oriente? Quando la missione si chiama colpo di stato, non promette bene. Ho la vaga impressione che il presidente richiede di fare una brutta fine. Da quelle parti non è che ti licenziano. No, 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 proprio ti spara. Non è che ci vuole voglia di pagarti i contributi IMSS, la pensione. Eh, sapete, quanto ammota la pensione del presidente? Mica pezza i fichi qua. Ok, direi che lo hanno individuato. Aia! Sì, lo stanno trasportando fuori in malo modo. Ah, i miei occhi! Oggi risorgiamo come una nuova nazione contro il tradimento e la corruzione. Bravo che hai fatto rima! Ciao Fuffi, come stai? Ok, il cane non ha votato per me, chiaramente. Sì, ma scusate, sono il presidente? Fatemi salire su un'auto più faia. Non c'era un Porsche, un Mercedes? Eh, che cocchio! Va bene, va bene anche quest'auto, va bene anche quest'auto, ciccio, datti una calmata. Oh! Ho chiesto un'auto più decente. Maronne! Eh! Questo è incocchiato così di primo mattino. Questo è nato che era già arrabbiato proprio l'espressione e è rimasta così fin da bambino. Avevamo fiducia in quest'uomo perché donasse alla nostra nazione pace e prosperità. Ho portato la patata, dai, non è che posso portare tutto? Che cocchio! Sì, direi che è chiaramente un colpo di stato, come potete vedere. Cosa c'è che ha detto? Scusi, non ho mai imparato la lingua del popolo, ma vabbè, i dettagli dei babbani. Che spettacolo! Ragazzi, davvero hanno fatto un lavoro eccezionale con questa Remastered. Chi sta chiamando? Tua sorella? Digli che non la voglio più, porco cane. Ma come la monarchia prima della rivoluzione, anche lui ha scelto di collaborare segretamente con l'Occidente per i propri interessi. Ma l'ho fatto per voi! Quale presidente non tradirebbe la propria nazione per fare un piacere agli Stati Uniti? Gli Stati Uniti bisogna tenersi di buoni, santo cielo, ma... Wow! Oh, e ciccio! Non è sopravvissuto! Oh, da questa parte se commetti qualche reatto stradale ti ammazzano sul posto? Gnori, come va tutto be... Eh, vabbè, non è passato sui tici pedonali. Pedonali. Sì, direi che stanno praticamente facendo fuori tutti quelli che si oppongono al nuovo regime. O probabilmente fanno fuori così a cocchio per far capire che hanno intenzioni serie. Oh, anche da queste parti bisogna farsi prendere seriamente, eh. E di quello non l'hanno preso seriamente, l'hanno preso con un proiettile e tanti saluti. Eh, sì, sì, anche tu ce l'hanno natrota in effetti, eh. Grande putt... Eh, mob, dettagli. Siamo arrivati, gente, eh. Dovrei fermarmi a fare pipì se è possibile, se c'è un baretto da queste parti. Ok, forse non sono stato un buon presidente. Ciccio, io... Leverei le tende molto in fretta. Perfetto. Ora è il momento di mostrare la nostra vera forza. Il nemico sottovaluta la nostra fermezza. Dimostriamogli che non abbiamo paura. Oh! Qualcuno si è quasi fatto mangiare il Wurstel da cane, eh. Maronneo. Da Popolo Unito libereremo i nostri fratelli dal gioco dell'oppressione straniera. Che poi chi è che sta parlando? Tutti... Bravo! Bravo! Non so cosa hai detto, ma sembri una persona importante. Wow! C'hanno anche gli aerei, quelli seri? Ok, è un colpo di stato in pieno stile. Questo è poco, ma sicuro? Dai, ragazzi, facciamo anche senza pensione. Non dovete spararmi per forza? Le nostre armate sono forti! La nostra causa giusta! Le nostre donne un po' cesse, ma non ci possiamo lamentare. E mentre vi parlo, i nostri uomini sono già vicini agli obiettivi da cui dipende l'indipendenza di un'unica grande nazione! Signori, non sprecate proiettili, porco cane! Il piombo costa. Poi magari pigliate un uccello in volo e il WWF ci fa le big denunce. Ahie, anche sto cane non ha votato per me. La nostra nobile crociata è iniziata. Cane! Datti una calmata! Ok, era il suo cane. Scusi, non volevo insultarla. Oh marone, che brutto! Ma che... Ma te sei cipo 126 anni, ciccio! Ti sei dimenticato di morire, ma molto tempo fa! Oh oh! Oh, la fa che impressione è che sto per essere giustiziato male? Semineremo distruzione nei loro paesi, come quella gente ha fatto con noi. Non ho fatto in tempo a leggere l'ultima parte dei sottotitoli. Ah, questo è il nuovo candidato alla presidenza! Buongiornissimo! Sono venuto per il dibattito! Questo è solo l'inizio! Guardi, ribadisco, ne possiamo parlare da persone civili, vero? Avanti! Lei mi sembra un giovane molto... Molto bastardo, direi! E che cocchio! Ah, proprio così! Ammetto che fartelo vedere in prima persona ti fa salire un po' di cago, eh! Di solito lo vedi sempre come una scena con telecamera esterna. Ok! Direi che il presidente ha perso le elezioni. Tano Price, Al-Assad ha appena giustiziato il presidente Al-Fulani in diretta nazionale. Gli americani hanno piani precisi per la salta. E per Al-Fulani ormai è troppo tardi. Tuttavia, in poche ore, l'uomo dal nome in codice Nicolai verrà giustiziato. Nicolai, signore. Nicolai è il nostro infiltrato tra gli ultranazionalisti. Ci ha fornito le informazioni per l'operazione mercantina. Quindi dobbiamo salvarlo assolutamente perché ci tornerà utile altrimenti lo avremmo lasciato a morire? Nicolai è in pericolo. Lo tireremo fuori da lì. Noi ci prendiamo cura dei nostri amici. Andiamo. No! Noi ci prendiamo cura dei nostri amici quando ci fanno comodo nel momento in cui smetti di essere utile. Ah, sì, Nicolai. Ah, l'hanno ammazzato. E non so proprio nulla, io. I lealisti ci attendono a 500 metri a nord. Muoviamoci. Oh! Operazione notturna, gente. Non ci spareranno a vista, se è quello che vuoi sapere. Beh, direi che so già abbastanza. Ok, occhio, c'è gente là davanti? Io sparerei se è possibile. Io sparo, intanto ti saluti, quindi fuori uno. Fuori due. Ok. Non ho aspettato neanche il comando. C'ho voglia di uccidere un po' di gente, santo cielo. Occhio. C'è qualcuno all'interno della capanna? C'è solo un paio. Potresti durarli senza un minimo di rispetto? Aspetta. Ok. Tanto sono qua che rubo portatili. Non per via dell'intelligence, eh. Perché li rivendo dopo su ebay a fine giornata. Non mi pagano abbastanza per fare questo lavoro. Dai che mi salgono i reumatismi, però. Già siano di notte, fa pure freddo. A queste parti l'ambiente non gliene frega un coppio nessuno, eh. Piano. Ok, non c'è nessuno sul ponte. Ottimo. Vedo ombra all'interno dell'edificio. Ok, possiamo sparare anche attraverso il legno? Quello non è un problema. Però se qualcuno lancia l'allarme... E' finito. C'è un tizio che dorme laggiù? Scusate. Premi 6 per usare una Claymore. 6. Che cocchio usa il tasto 6? Quindi la piazzo tipo così. Perfetto. E poi dobbiamo sparare a qualcosa. Beh, io sparerei al tizio laggiù. E' scivolato. Io non c'entro niente. Ah, il cucino si è accorto di qualcosa. Gli è svenuto addosso perché me... Ok, la Claymore ha funzionato meglio del previsto. Aspetta, aspetta. Un altro signore che ha sbrissiato male. Ehi, tutti che sbrissino male da queste parti? Ma no, ma poveri. Dai che stavano giocando a scacchi. E' praticamente lo sport nazionale russo in pratica. Ok, oltre alla bevuta di vodka. Ma vabbè, dettagli che poi qualcuno si offende nei commenti. Sapete com'è. Io non sento nulla. Che succede? Wow! Ti stavo per sparare, ciccio. E avverti la prossima volta. Wow! Wow! Cos'è accaduto a Beirut? Scusate gente, se parlate di un luogo, magari, non lo so, raccontatemi l'aneddoto che non sarebbe male. Ok, ora che siamo un bel gruppetto numeroso, non dovremmo avere troppi problemi. Ah, io non sono un cecchino, è solo che mi piacciono le armi faglie. In realtà non piglierei mia nonna neanche a un metro di distanza, ma vabbè, dettagli. Ok, qui devo offrire copertura dall'alto. Aia! Uno sta sparando pesantemente stanotte, eh? Cos'è? La festa nazionale? Perfetto, eccoli che stanno avanzando lentamente. Ottimo. Wow! Quelli li vedo tranquilli, signori! Mi sono tipo esplose, cosa li faccio? Ma vabbè, dettagli? Ok, aspetta. Maronne, che casino. Ricarica. Mitaglieri alle finestre, sopra. Così gli uomini di Kamarov possono entrare. Ok, deve essere lì dietro, più o meno. Che casino! Ok, la batteria lì l'hanno completamente distrutta, mi consolo. Non ci aveva parlato degli elicotteri, Kamarov. Non ti ho nemmeno detto che non ne avreste incontrati. Au! Per proteggere i miei uomini, di qua. Faccia in fretta, Kamarov. Voglio il mio informatore. Non deve preoccuparsi di nulla. E elimineremo i BM-21 e libereremo la via per raggiungere l'informatore. Wow, 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 wow. Qua sta crollando tutto, gente. Non è che mi fido molto di questo Kamarov, eh. È pronto a tradirci da un momento all'altro. È solo che, in questo caso, siamo noi che gli facciamo comodo. Maronne! No, non mi spiggete verso il fuoco, razza di idioti. Signori! Stanno sparando attraverso il legno. Voi tranquilli, tranquilli. Ok, aspetta. Dove stanno? Signore, abbiamo compagnia. Elicotteri in avvicinamento radio. Eccoli là, eccoli là. Aspetta, aspetta, aspetta. Spariamoli dall'istante di sicurezza. Perfetto. Quanto è bello, sono fucile a cecchino. Niente male. Oh! Eh, guarda quanti! Maronne, state buoni! State fermi! Non mi metto neanche a far colpire la testa perché si muovono in continuazione. Si mette solo in copertura. Potrei farli fuori più facilmente. Preso. Ce n'era uno là dietro. Aspetta. Ah, ecco di qua, ciccio. Perfetto, eliminato. C'è un altro tizio lì. Ah, no, stai di qua. Perfetto. No, più morto. Bravo. È che non so come si è morto il russo. Porti pazienza. Cerchiamo di aggirarli tatticamente e casomai li colpiamo con lanciagranate. Boom! Aspetta. Un attimo, signore, che c'ho un colpo di lanciagranate. È tutto per lei. L'ho marcato con l'amoramento. Aspetta! Aspetta! Dai, che volevo fare una sceletta figa. Perché devi essere così bastardo? Ok, ora c'è morto. Dai, però mi hanno ferito gravemente. Allora, aspetta che eliminiamo quelli che stanno arrivando giù dalla collinetta. Aspetta. Ok. Ce n'erà un altro. Un attimo. Mi sa che sei ancora troppo vivo. No, è decisamente molto morto. Oh, quello c'è lanciamissili. Ma stia scherzando? No, che legno non mi protegge, gente. E dai, eh. A posto? E ancora... Aia! Uno là! È tipo mezzo morto, ma non sufficientemente morto. Ok, ok. Ci penso io. Camionetta nemica? Quella non posso farla fuori io, gente. Non faccio i miracoli. Porco cane, guarda gente che sta arrivando. Aspetta. Quello c'è pure un lanciamissili. E evitiamo di farlo avvicinare troppo. Ok. Un altro. Eh, un attimo che ricarico. Esce subito da lei. Perfetto. Colpito. Uy, porco cane, sta arrivando tanta gente. Aspetta. Ok, perfetto. Boni. Ah, se ne astragi stanotte, eh. Bene. Stiamo facendo progressi. Seguitemi verso la centrale elettrica. Ok. Ne abbiamo ammazzati abbastanza, quindi? Dove andate? Ok, di qua. Perché poi mi abbandonate sempre indietro? Non è che mi dite, Hey, Soap, vieni, mi raccomando. No, sono lì che sparo, mi giro, dopo, e sono tutti partiti da dieci minuti. Guardi, l'attacco finale è già iniziato. Un altro po' di supporto dal voto. Basta col cecchino. Dov'è l'informatore? Sto iniziare. Sto su mazza shell. Sto si vede a spalare. La casa. La casa nell'area nord-est del villaggio. Beh, non è stato così difficile, vero? Soap, Gas, raggiungiamo la casa prima che accada qualcosa all'informatore. Andiamo. Ok, Capoghe, penso mi. Hai capito questo? Si voleva far aiutare a conquistare tutto il villaggio? Eh, certo. Ho capito un po' di cop, ma santo cielo, devi anche tu fornirci l'informazione. Aspetta. No, scusate. Ho sparato uno di buoni. Non mi ero accorto. Ok, cerchiamo di aggirare il nemico. Io non devo stare ad affrontarli tutti, ovviamente. Macello. Eh, vabbè. Complimentoni, bravi. Aspetta che c'è un... No, dove andate? C'era un tizio lì per un secondo. Oh, sono arrivati i cugini del tizio. Perfetto. Eh, vabbè. Si sono messi tutti allineati, ma che gentili. Perché non elimino i buoni. Perfetto. E... Oh! E certo. Non ho fatto neanche in tempo a mettere il naso fuori, che subito mi hanno attaccato. Aspetta, aspetta, aspetta. Questi sono tutti tanto, tanto cattivi. C'è un tizio dentro la casa. Spariamo, magari lo faccio fuori. Oh, io, io. Aspetta. Ragazzi, riuscite a offrirmi un po' di copertura, che non sarebbe male? Oh, porco cane e quanta gente che c'è. Eh, eh. Oh, l'ho preso per davvero. Vado a cercare di entrare nell'altra casa. Allora, aspetta che me la rischio. Vai! No! Ok, sono bloccato su chi? Ah, perché c'è ancora un tizio abbastanza vivo? Ora è decisamente molto più morto. T'ho visto. Ok, eliminato. Ricarica sop. Veloce, 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 veloce. Ah! Spare, non so da dove. Ah, da qua davanti. Perfetto. Trovato. Cori, corri, 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 corri. Ok, andiamo a casa in giù, ma la collina. Non sarebbe male, altrimenti non so come facciamo. Va sul retro e toglie la corrente. Gli altri si preparino. A ottenere le informazioni che ci servono, signore. Sono arrivato primo. Primo io una volta tanto. Alla faccia c'è vuota, argente. Non mi ero accorto. Ha il cappellino da pescatore. Ah, il piccolo Sanpei militare. Ok. Ok, ho tolto la corrente. Andate. Uh, adesso abbiamo un vantaggio tattico non indifferente. Ma io c'ho il visore. Mi dicono dalle regie di sì. E olè. Ottimo. Eh, se non la paghi la corrente. Con il visore notturno è un gioco da ragazzi. Aspetta, aspetta, aspetta. Che abbiamo un altro evasore delle bollette. Perfetto. Piano. L'importante è non fare troppo casino. Uh, il tatticone della vita. Aspetta, cosa sta passando da fuori? Aspetta, aspetta, aspetta. Boni. State boni. Volemo stare bene. Ok, eliminato furbacchione. Aspetta. Atreverso c'è ancora qualcuno qua dentro. No, t'ho visto. Portatevi in parte al gabinetto. Cosa stava facendo in gabinetto? Ma si vergogni. E... Ah, quello è Nicolai. Aspetta, ma è il tizio che dobbiamo salvare. Non si chiamava Nicolai. Tua nonna in cariola. Tua nonna in cariola. Eh, daie. Ma che cocchio. Mi ha incasinato la visuale proprio all'ultimo. Bastardo. A posto? Ah, sì, gazza. Stavo per sparare a te. Signor Nicolai, buongiorno. Sì, la nona trota. La nona trota ce l'abbiamo tutti, ciccio. E' lui. Nicolai, stai bene? Riesci a camminare? Sì. E posso anche combattere. Grazie per avermi salvato. Big Bird, qui bravo sei. Abbiamo il nostro uomo. Ci vediamo all'area di atterraggio. Passo. Bravo sei, qui Big Bird. Arriviamo. Passo e chiudo. Andiamo. Ok, ritorniamo fuori. Non mi ricordo la strada, me la sono già dimenticata, porco cane. Eh, vabbè, ho trovato l'uscita al primo colpo. Porco cane. Bryce, dove è passato lei? Era dietro di me fino a un secondo fa. Cosa cochio sta accadendo? Bryce, c'è il teletrasporto? E' un soldato talmente tanto esperto ormai. Oh, ed è quello che non sono arrivati a salvarci. Amici, portateci. Cosa mi ha ucciso? Cosa? Cosa mi ha ucciso? Ero... Ma... Ma vaffan club, gioco. Ah, adesso ho capito. Ho seguito Bryce e lui ha fatto il giro, quello più breve, bastardone. Credo che mi abbia colpito l'elicottero mentre stavo atterrando. Ok, facevo finta di nulla perché non è che stavo saltando e quindi mi sono tranciato in due con l'elica. Ma vabbè, dettagli. Ok, un'altra giornata di nostro lavoro, gente. Abbiamo salvato il povero Nicolai. Gli americani hanno già attaccato alla ZAD. No, l'invasione inizierà fra poche ore. Perché? Gli americani stanno facendo un errore. Non riusciranno mai a prenderlo vivo. Con quale accento di Arzor? Che anche tu, compagno di Barretto. Ottimo, abbandoniamo le montagne della Russia e raggiungiamo il Sargente Paul Jackson della USMC. Marine Corp, credo. Quindi sono un Marine, yay. Marina, Marina, Marina. Uila. Stanno cominciando un assalto in pieno stile. Quindi hanno portato gli elicotteri a bordo delle portaerei. Potevate anche mettere più di uno per singola portaerei, gente? Vogliono cominciare un attacco sulla città direttamente? Stavolta quindi non stiamo con Sopek Tevish. Ah, non mi ricordavo che si passasse effettivamente da un personaggio all'altro. Ehm, signori, ci stanno sparando. Sicuramente abbatteranno uno degli altri elicotteri. Probabilmente morirete proprio voi, ragazzi. Io faccio il scommetto su di loro. Vediamo un po'. Daie, daie, che perdo le scommesse, sennò... Ci hanno la faccia da stopper morire fra dieci secondi perché sono un NPC che vale poco. Perfetto! Siamo arrivati a destinazione. Gente veloci! Più restiamo in aria e più siamo un bersaglio facile. Oh no, scendiamo con le corde, eh? Vai ciccio, vai avanti tu! E olè! Sì, l'avessi fatto una vita vera, sei morto male. Sei precipitato al suolo, probabilmente. Ma non potevo prendere la scorciatoia, dai! Dai, gente, una porta in legno! Un bel pestone, come fa il capitano Price! Che stai a fa'? Ma no, l'esplosivo, dai! Che una porta in legno! Se ci scorreggi in parte esplode tutto! Occhio aperti, occhio aperti! Minacce eliminate! Ok, perfetto. Ah, sono io? Devo ricordarmi che adesso mi chiamo Jackson e non più SOP. Tanta gente che urla! Uè, tatti buono! Ok, minacce eliminata. Tanta gente che urla da sinistra! Sì, gli lancio una granata. Occhio ciccio con la granata! Eh, eh, eh! Perfetto, ha funzionato! Ok, vediamo che non esca altri simpaticoni da qui. Ehi, là! C'erano altri simpaticoni? Aspetta, aspetta. L'ho visto, l'ho visto! Mio portatile! Perfetto, ho trovato tutti pornati! Eh, andiamo avanti che è meglio! Che state sparando? Ah, c'era un altro cattivone, non l'avevo visto! Che fabbrica di armi! Non male! Aspetta! Occhio, occhio che lancio una granata! Mi hai visto lanciare la granata, vero? Facciamo una granata anche di là per parco indicio? Guarda che... Stavo mirando le vostre armi! Portate pazienza! Aspetta, aspetta, buono! È che posso sparare 826 persone! Ok, preso in pieno! Qui dentro non c'è nessuno, no? È il bagnetto qua! È lo scantinato dell'inserviente, praticamente! Aspetta, uila! Tu vuoi in un solo colpo? Dove c'è? Ehi, ancora vivo? Più morto? Bravo, c'è tutto visto, tutto visto, tutto visto! E te mai anche sentito? Olè! Perfetto! E eliminati alla grande! Sono pieni i zeppi di armi fighissime questi tizi! No, pistola tua nonna! Prendimi almeno la K-47, arma ufficiale di... Di chiunque! Tanto cielo, se non hai una K-47 non sei nessuno? A tutti i segnali di chiamata, controllate i cadaveri e confermate l'eccesso di Al-Assad! Qui negativo, signore! Qui nessun segno di Al-Assad, signore! Guardier generale, qui Red Dog, edificio sotto controllo, nessun segno di Al-Assad! Wow, 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 wow! Ok, dobbiamo quindi procedere! Porco, cari miei, hai fatto cagare in mano, ciccio! Al-Assad stia trasmettendo da una stazione televisiva a 500 metri a est da qui! Procederemo a piedi e cattureremo il bersaglio sul posto, muoversi! L'ho detto io! Mi hai messo il filo spinato qua e ho dovuto prendere l'Assad più lunga! Ma che cocchio! Ok, oh! Aspetta, aspetta, vedo contatti laggiù, un secondo! Granata! Dobbiamo quindi salvare assolutamente la Barbara d'Urso del luogo! Bravo, ciccio! L'hai lanciata bene la granata, no? Ogni tanto... Ma prendo comunque un sì, ok, non ti giudico più! Aspetta! Ok, cerchiamo di avanzare parallelamente! Alle altre squadre? Se escono dalla sopra ci ribellano male di colpi! Cerchiamo di aggirare il nemico se è possibile! Aha! Aspetta che dietro le lamiere non si possono proteggere dei miei proiettili! Ti perforo anche la nonna! Che strage! Ma che strage! Erano tutti qua dietro! Aspetta che ricarico, aspetta che ricarico! Ciccio! Ma non andare così a pipo duro! Ma vabbè, dettagli! Aspetta che alleati d'arrivo! Dovrei esplodere quell'auto e chi solito si è visto! Ottimo! Tutti figliattoni quest'oggi, eh! Ok! No! Questi non sono alleati! Magari Mira Lone che riesce a far fuori anche il cattivone! Non sarebbe male, porco cane! Eh! Guardi che la vedo, eh! Ma dai! È uno contro otto milioni! Ok, occhio! Aspetta! Quello è un cattivone! Quello è un cattivone! E... Andovai! Andovai! Se un proiettile in faccia non ce l'hai! Ragazzi, dovrete offrirci fuoco di copertura! Aspetta! Questo è buono! Mi sto cacando un cifrone! Ok! Sembra... No! Non è poi così tranquillo! Ehi! Ehi! Porco cane a bordo della camionetta i furbacchioni! Contatti! Contatti, gente! Ok! Eliminato uno! Eliminato due! E ovviamente non c'è due senza tre! Credo che tu sia ancora vivo! Metti fuori la faccina! Ecco qua! Perfetto! Risolta pacificamente! No! E vabbè! Sono arrivati altri fratelli! Aspetta! Ok! Eliminato! Hanno avuto la mia stessa idea, solo che loro l'hanno accettato meglio! Aspetta! Sono messo male! Sono messo male! Porco cane! Che gatto in mano! Sono bravo a lanciare le granate! Su Advanced Warfare era molto schiccio! Stai sparando alla parete! Stai sparando alla parete! Ma voi dettagli! Ok! C'è qualcuno che ha una mira addirittura peggiore della mia! Aspetta! 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 Avanzate! Avanzate! Ah! Le ho viste là davanti! Eeeh! Quanti! Eeeh! Un'armata incredibile, porco cane! Aspetta! E tua nonna è a terra! Porco cane! Aspetta! Questa che non sparino dalle finestre, si sa mai! Oh! Non l'avevo visto! Porca riconi per porca! Non la possiamo dare contro di loro! Signore, guardi che la vedo, eh! Non era molto difeso e protetto! Granata! No, un po' il cocchio che mi metto a rilanciare le granate! Ehm! Quell'auto sta per esplodere! Magari alloteremoci un ciccinino! Occhio, gente! Qua ci stanno per assaltare! Lo dicevo io! Guarda di chi sono triccerati là sopra, i bastardi! Aspetta! Aspetta! Oh! C'è un sacco di gente triccerata male lassù! Porco cane! No, dobbiamo girarli assolutamente! Ok, problema da vantare! Buongiorno, signore! Che piacerebbe fare la sua conoscenza! Aspetta! C'è pure un cugino qui! Vediamo che non ci abbia qualche altro cugino da quest'altra parte! C'è un cugino dovunque, questi tizi! Perfetto! Nel frattempo abbiamo raggiunto la sede di Mediaset! Beh, in arabo si scrive così Mediaset, gente! Passiamo dalla porta laterale! Sai che cosa buona e tanto giusta? 100 euro che vorranno usare gli esplosivi? Perché dobbiamo fare i fighettoni! Barbara! Barbara, tranquilla! Veniamo a salvare te e le tue lacrime! Non possiamo vivere senza di voi! Ehm, qualcuno vuole mettere un esplosivo? Signori, io lo ribadisco! Un paio di calci e la porta andava giù! Aspetta! E il rompone il cuculo di tua nonna, ma vabbè dettagli! Mi sono bloccato male dove? Dai! Levatevi, barboni! Occhio! E Micola davanti! Forza, ragazzi! Barbara conta su di noi! Cioè, dobbiamo anche recuperare i portatili per il mio commercio illegale! Ok! Sì, direi che li abbiamo trovati! Sento voci che urlano cose! Sì, 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 sì! Barbara, pure a te! Ok, buono, buono! Anche loro perciò un sacco Barbara d'Urso! No, no, Barbara d'Urso è nostra! Barbara d'Urso è nostra, l'ho detto! Ok, aspetta! Aspetta che ricarico, aspetta che ricarico! E, olè! Ottimo, avanziamo! Quanta gente! Perfetto! Non sparate i server, porco cane! Aspetta! Questi valgono un sacco, li posso rivendere, sto per sparare al mio collega! E... Direi che abbiamo eliminato tutti! Aspetta che ricarico! Oh, quanti computer! Qua si ciulla tutto, gente! Eccoli da sopra, eccoli da sopra! Occhio! Stanno provando ad attaccarci da sopra! Allora, lanciamo una bella amichevole granata! Oh! Hai rotto un po' i maroni dopo un po', eh! Aspetta! Granata nemica, granata nemica! Lanciala! No! Non ho prendere i computer! Salvate i computer! Pensate ai computer! Avanti, gente! E' una strage là davanti! Maronne! Aspetta! Stanno provando ad aggirarci! Ok! Direi morto male! Aspetta! No! Dietro la fotocopiatrice! Ci stanno crivellando di colpi! E' una strage! Un sacco di innocenti computer stanno morendo! Ok! E' eliminato anche questo! Aspetta granata! Porca di quelli per porca! Non l'ho vista! Aspetta! Morto uno! Morto due! Morto tre! Più morto? No! Direi sufficientemente morto! in ufficio quest'oggi! Aspetta! Sei ancora vivo? Ciccio? Ciccio? Aia! Più morto! Aspetta! Aspetta! Mi rifugio qua dietro! Ok! Credo che ci sia qualcuno qui! Ok! Ora non c'è più! Maronne! Maronne! Ah! Dove sono i computer? Dove poi sono finito, peraltro? Non ho tratto neanche un portatile! Ma mi prendi in giro? Tutta roba che non posso ciulare! Oh! Da dove? Da dove? Ah! Stavi difendendo un portatile, bastardo! No! Niente portatili! Chi è ancora vivo? No? Questo è un collega? Come fanno ad aggirarci ogni 5 secondi? Dopo che sono finiti tutti granata! Ho visto che l'hai tirata tu, razza di idiota! Scusate! Ero andato a cercare i portatili! Portate pazienza, gente! Un giorno difficile per tutti! Bravo! Ciccio! Occhio! Sì! Ecco i nostri ragazzi! Oh! Meno male! Urra! Hanno sentito tutto il richiamo di Barbara D'Urso! È qualcosa di incredibile! Ti ingrifi proprio in una maniera assurda! Alleati in arrivo! Sì! Sì! Tutto è bello! Ah! Eccoli laggiù! Perfetto! Nessuna traccia di Al-Assad, signore! Bene! Marine! Informazione e occhi aperti! Ah! Al-Assad è il nome in codice di Barbara D'Urso! Se non si fosse capito! Aspetta! Dobbiamo passare da questa parte! Guarda che roba! Sti bastardi! Hanno nascosto tutti i portatili! Stanno provando a riconquistare la stazione televisiva! Eh certo! Una volta che hai tra le mani Barbara D'Urso non la lasci più andare! Questo cocchio di AK e di un'imprecisione è veramente incredibile! Ok! Dovrei aver fermato la loro avanza! Amico! Ma è rimorto male il tizio! Ah! Strano che non ci abbiano attaccato qua sul tetto! Cagato un cifrone! Pensavo ci bombardassero dall'alto! Voglio dire anche loro c'hanno gli aerei! Ok! Sembra che non ci sia nessuno! Stiamo davvero incontrando resistenza? Ok! Devono essere passati da questa parte! Forza! Qualcuno che sfondi quella porta! Presto! Non possiamo farlo col piedino! Ciccio! Hai un fucile! Spara i cardini! Dai! Ah no! Dobbiamo aspettare l'ultimo dei furbi! A posto? Credo sia qui dentro! Lo sento! Eh! Sente il profumo di Barbara anche lui? Ah! L'ha fatto veramente? Io dicevo per dire! Ah! Ok! Adesso possiamo fare breccia! Buongiorno! Levatevi! Dai! Barbara! Sono il tuo fan numero uno! Via libera! Niente! Niente da fare! Barbara! Perché continui a sfuggirmi? Non è qui! È una registrazione! Che comincia sempre da casa! E basta! Un punto per la nostra intelligence! Questa volta hanno ciccato di brutto gente! Questo è poco ma sicuro? Si spegne qualcosa! Ricevuto! Ho qualcosa di meglio! Comando! Qui il Red Dog! Situazione sotto controllo! Nessun segno di Al-Assad! La trasmissione è registrata! Passo! Sì! Ora! Ma con che musica triste! Dai! Ok! Sono il nuovo! Ma no no! Mi licenzio! Sono il nuovo conduttore del programma televisivo! Avanti gente! Dai! Buono signori! Io direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua! Non sarà effettivamente un capito molto lungo di Call of Duty! Anzi dovrebbe essere uno dei più brevi dell'epoca moderna! Tutto sommato è comunque pieno zeppo di azione! Aspettatevi veramente grandi colpi di scena! E chi più ne ha più ne metta! Nei commenti fate sapere cosa ne pensate! Senza spoilerare o vi banno all'istante! Lasciate un bel mi piace! Altrimenti verrete picchiati male dal Capitano Price! E noi ci vedremo in un prossimo video! Ciao ciao!